È doveroso attendere il risultato del lavoro dei magistrati, ma penso che possiamo partire da una valutazione che difficilmente verrà smentita. Gli incendi della Valentino e della LEM non sono attribuibili a impossibili forme di autocombustione. Qualcuno li ha piccati ed è la prima volta che in provincia di Arezzo si registra un simile attacco criminale. Alessandro Mugnai, segretario provinciale della CGL di Arezzo, all'indomani dei tragici roghi che hanno visto distrutte due aziende di Levane, interviene pubblicamente per ricordare come in passato, dati del rapporto Fondazione Caponetto alla mano, la provincia non sia stata esente da infiltrazioni criminali. Oggi, afferma Mugnai, possiamo fare due scelte. La prima è attendere e stare fermi nella speranza che gli incendi siano il frutto dell'azione di un piromane isolato e folle. La seconda è invece lavorare immediatamente sull'ipotesi peggiore, ma ad oggi più realistica, e cioè che ci sia una presenza della malavita organizzata. La CGL chiede quindi un impegno immediato e condiviso alle istituzioni dello Stato, di quelle locali, delle categorie economiche ed ovviamente di tutti i sindacati. Due incendi in pochi giorni sono segnali che non possono essere sottovalutati. La CGL poi sottolinea la positiva reazione delle imprese. Le federazioni di categoria stanno discutendo l'attivazione degli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione straordinaria è in grado di evitare un altro dramma sociale ed occupazionale di un'economia già duramente provata dal Covid. Vorrei non solo apprezzare, ma anche evidenziare la decisione di Prada di mettere a disposizione i locali per il proseguimento dell'attività della Valentino. Questa potrà evitare lunga trasferta ai lavoratori e testimonia l'esistenza di una classe imprenditoriale per la quale si può essere concorrenti, ma non nemici. Anzi, conclude, ci può essere addirittura solidarietà tra le imprese.